Dal 25 dicembre al 6 di gennaio riparte in forma comune Christmas Edition. Avevamo già fatto questo esperimento durante il primo lockdown e l'idea è quello, 13 giorni, 13 palestre faranno attività online alle 10 di mattina. È un modo per ritenere alta l'attenzione sul mondo sportivo che fermo da fine ottobre, quindi già in questi mesi diverse palestre durante questo mini lockdown hanno attivato tutto quello che era possibile, quindi collezioni online. Visto che adesso nel periodo di Natale ci saranno di nuovo dei giorni rossi, abbiamo pensato di rimettere insieme tutte queste realtà tutti i giorni, offrire ogni giorno alle 10 la possibilità di fare attività da casa. Le iniziative sono tante, le attività sono diversificate, andiamo dal Pilates alla Zumba e quindi sono attività che tutti potranno fare, quindi non c'è differenza ai livello di età e di capacità. Sarà possibile seguire le dirette sul gruppo Facebook Casa Pesaro del Comune di Pesaro. Grazie. Grazie.